La scorsa settimana un sitino dei clochard retini per chiedere la riapertura immediata del dormitorio in piazza San Domenico, ma l'amministrazione comunale ha detto noi abbiamo già preso in carico questa necessità, ci stiamo già organizzando. In che modo? Intanto va chiarito che il dormitorio può stare aperto grazie alla disponibilità e generosità di volontari che lo tengono aperto. Quindi ho trovato il sitino del tutto improprio, perché semmai bisognava che ci fosse un sitino alla chiusura con scritto grazie, perché chi tiene aperto il dormitorio lo fa per volontà e per scelta. Allora dobbiamo organizzare e sapere quante persone sono ancora disponibili a farlo, siamo certi che ce ne saranno, però quel sitino tra l'altro con quel cartello scritto così bene fa pensare a una strumentalizzazione. Ora io ho un po' di esperienza politica per capire che è così, facciamo conto di nulla, andiamo avanti come avevamo organizzato di fare, ci incontriamo a metà della prossima settimana, come era calendarizzato da qualche tempo. A chi in qualche modo ritiene di dover dare degli indicazioni alla generosità degli aretini, questo non lo accettiamo. Il dormitorio aprirà, aprirà in tempi più veloci perché lo scorso anno era stato in qualche modo risistemato da un punto di vista degli ambienti. Ricordo che solo la giunta Ghinelli ha messo a disposizione gratuitamente degli ambienti, ricordo che se non ci fosse Caritas e il volontariato cattolico il dormitorio non ci sarebbe. Quindi mi aspetto semmai un cartello che ho scritto grazie, grazie alla Caritas, grazie ai volontari e grazie al sindaco Ghinelli. Tornerà ovviamente anche l'impegno della questura in termini di sicurezza? Assolutamente sì, la formula che abbiamo inaugurato ormai nel 2015 non cambia ed è una formula di accoglienza ma anche di sicurezza. Il dormitorio è l'ultima spiaggia, chi non è riuscito a trovare una soluzione alternativa ha diritto, quando è freddo, ad avere un luogo dove andare, però non deve essere un nascondiglio e quindi deve essere un luogo tutelato, deve essere un luogo che garantisce sicurezza ai volontari, deve essere un luogo che garantisce tranquillità ai cittadini e quindi deve essere un luogo che deve vedere la solidarietà e la sicurezza unite insieme per quella che noi ormai abbiamo definito una città coesa.